che c***o l'aveva vista la curva il problema è che già non va da sola sta moto in più con te dietro va ancora meno perchè pesi 100 kg perchè pesi 100 kg si tu mi fai andare davanti che non so la strada ci sono le videocamere dai che p***e aia ah li si è spenta li si è spenta oh a gioie li si è spenta la moto a gioie li si è spenta la moto si è spenta la moto porco zio stavo superando quel camioncino eeeh è morta eccolo 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 gabry ehi gabry no 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 che faccio ma ne hai due tocca a me anche il c***o allora questa volta è a ruttare quando adesso no allora è passata la mamma di io è passata la mc anche prima mi continuai a tirare le cascate guarda la benzina è già metà serbatoio ero pieno sotto ma dove c***o sei un cane c***o che c***o cambiava da prima ci guardano un po' tutti registrando quindi se dopo ti chiede la registrazione mi dice eh ma dove siete andati oggi non ho registrato non ho registrato oh ce ne andiamo senza di loro cosa ce ne andiamo senza di loro molto più che volentieri piano sali mi frega andiamo senza di lui ah sono in folle sono in folle sono in folle sono in folle si solo perché ero io mi stavo vedendo di non più eh mi dimentico che ho te dietro questo qua è il Ticino è poco più grande del po' no? no Ma ci sono, tanto ci recuperano, tanto ci recuperano Ma scusa, lo specchietto, arriva o no? Ah, eccoli sti bastardi E Gioele? O è rimasto senza benzina o ha fatto qualcosa di peggio? Grazie 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 Grazie